E Velasco Vitali, in arte Velasco, il vincitore della 73esima edizione del premio Michetti Figura Figure, l'immagine delle immagini a cura di Nunzio Giustozzi, in collaborazione con il Museo Barbella di Chieti e con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Il premio Michetti è stato assegnato ieri sera a Francavilla nel corso dell'inaugurazione della mostra, che coinvolge 13 artisti con 129 opere, ingresso libero fino al 25 settembre a Palazzo San Domenico. Figura Figure, l'immagine delle immagini è il titolo dell'edizione 73 del premio Michetti, un progetto di ricerca importante, originale, innovativo, pensato e realizzato dal professor Nunzio Giustozzi, un'edizione che ha l'ambizione di ripristinare i canoni della figuratività, una giuria altrettanto importante, presigiosa, capitanata dal professor Costantino Dorazio. Novità di quest'anno è l'edizione digitale del premio, sarà possibile votare l'opera online sul sito fondazionemichetti.it fino al 21 settembre. Tutti i giorni, lunedì chiuso, ore 18.23, Figura Figure, l'immagine delle immagini. La nuova edizione del premio, conclude il presidente della fondazione Michetti, Andrea Lombardi Nilo, si muove nel rispetto della tradizione con artisti di primissimo livello, con la novità appunto del premio digitale, assegnato con il voto digitale. La multiformità delle opere in concorso, dice un'ulteriore prova dell'impegno della fondazione Michetti, del suo lungo percorso di valorizzazione del territorio nel contesto regionale e nazionale, nel pieno rispetto della tradizione e con gradi attenzione all'innovazione, aspetti che Francavilla, Almare e Labruzzo incarnano perfettamente.